Una fiaba che si trasforma in un'epica tragedia greca. Vorrei sapere dal regista e dagli attori come è stato costruire i personaggi e costruire la storia in cui quattro adulti rivivono l'esperienza drammatica della loro infanzia. Costruire la storia mi piaceva in qualche maniera raccontare uno spaccato di una parte di società dove molto spesso vince chi è più forte, la predominanza, la lotta all'estinzione e alla sopravvivenza, il potere, chi comanda eccetera eccetera raccontarla attraverso un nucleo familiare dove si poteva mettere in evidenza soprattutto quello che tradizionalmente dovrebbe essere l'amore di una famiglia, l'unione tra fratelli eccetera eccetera. Avevo dei punti di riferimento estetici perché mi sono appassionato, mi piace tantissimo il cinema del nord Europa e mi piaceva avere un'immagine fredda, un'immagine livida, un'immagine quasi gelida in alcuni momenti insomma. Quindi abbiamo cercato di lavorare con Federico Annichiari, col direttore della fotografia, cercando prima di tutto questo tipo di sensazione, giocando anche sulla pasta dell'immagine quindi insomma sgranandola al punto giusto per riuscire a far vivere bene quel livido e restare freddi. Parlavo con Marco all'inizio quello che mi colpiva che gli avevo detto in scrittura era l'idea del fardello che si portano presso queste persone, nel senso la tua vita inizia e inizia in quel modo e solo che poi nel proseguito della storia non c'è un riscatto, ci può essere un riscatto dopo un evento del genere avvenuto quando tu sei solo un bambino. Questa cosa è interessante di per sé, come tu parlai di tragedia greca, ma insomma ecco i personaggi da quel momento con sfumature diverse condividono questo punto di partenza, questo inizio infelice della loro esistenza. Si è lavorato da lì, per quanto mi riguarda era una suggestione abbastanza potente e la scendiatura è scritta bene e con Marco io mi sono trovato molto bene sul set. Anche nella visione del racconto e dell'interpretazione di conseguenza era molto stimolante e curioso, cioè prima delle riprese. Io penso che ognuno di noi rimane fermo al momento in cui subisce un trauma, per cui in realtà loro sono... poi la vita va avanti, magari per 80 anni si perdono i capelli, vengono i peli, ma io immagino che gli esseri umani se non lo superano rimangano sempre le persone che hanno visto l'orrore e questo sono loro e Marco li fa anche vedere nel momento in cui succede questa cosa. E poi come procedimento attoriale io sono molto basico, non cerco di pensare poco e di usare il respiro, il corpo e io ho semplicemente immaginato, siccome il mio personaggio è l'unico che appare, come dire, teoricamente un po' fuori e che abbia trovato uno sbocco, semplicemente quando si interrompe questa sua traiettoria di apparente salvezza ho semplicemente deciso di respirare molto più piano e di tornare molto più bambino, di immaginarmi piccolo, piccolo anche fisicamente, questo è proprio un procedimento organico che ho utilizzato io. Ti accorgi che Marco se tu arrivi sul set nel tuo campo visivo non c'è e ti spunta da dietro una caviglia con un punto macchina stranissimo, quindi c'è questa conduzione, si aveva sempre questo piumino bianco veramente improbabile, o fucsia anche forse qualche volta. Però questa conduzione fanciullesca del set, libera, quasi infantile ma in senso buono mi ha portato a vedere più che un adulto che vede il suo passato da bambino, è questo bambino mai cresciuto che vede un adulto che è un fantoccio e quindi ho provato a immaginarlo in questo percorso.